E' l'ultimo carico di roba buona, capo. Lo so, ho conservato quelle bottiglie per dieci anni. Ma ci servono soldi. Portatele via. Sentito, caricatele. Che piacere vedervi. Capo, che ne pensa del lavoro con Salvatore? Sei stato bravo, Tom. Chilotti non ha più nulla su di noi. Abbiamo guadagnato tempo, almeno finché bastano i soldi. Forse possiamo fare un agio passo, capo. Se non mi ha detto che hai un piano. E le piacerà? Faremo un bel gruzzolo e faremo sacciare qualche dente a morello. Ok, cos'hai in mente? Un paio di settimane fa mi stavo rilassando nella Segar Lounge del Bluetropix. E che? Un bordello da quattro soldi. Due stanze totalmente spoglie con i materassi a terra. E per gente rispettabile. Annalbaire è tutto. Comunque, un cliente era ubriaco fratico e tormentava la madama con tutti i suoi problemi. Ha attirato la mia attenzione col suo accento del cazzo. Ripeteva ancora e ancora di questa bella attività che era riuscito a tirare su. Ma gli scherri per cui lavorava pretendevano una fetta e avevano deciso di rompergli il naso. Gli hai pagato il conto? E certo che no. Però l'ho accompagnato fuori e l'ho portato a una tavola calda per aiutarlo a riprendersi. Ci mettiamo a parlare. E viene fuori che il suo nome è Gates. È un campagnolo. E viene da Kentaghi. Un contrabbandiere. Ha ha ha, meglio. Suo padre possiede un paio di destellerie. E vi lascio immaginare chi è il loro unico acquirente da queste parti. Morello. Ma pensi che voglio tagliare i ponti? Eh già. Ma lo sono lavorato bene, capo. Stanotte ha un altro grosso carico. Ma ha convinto tutti i suoi uomini ad arrendersi. Non dobbiamo far agio che simulare una rapena vera e propria. Non lo so, pure. Ti fidi davvero di noi? Morello non gli piace, questo è chiaro. E voi non abbiamo alternative. Siamo quasi alla canna del gas, giusto capo? Che ne pensi, Tom? Dobbiamo rimpiazzare il Canadian. Se per Pauli questo Gates è la soluzione, per me va bene. Dov'è l'incontro? A grosso parcheggio, giù in centro. Ok, bene. Ma stavolta vedete di non fare minchiate. Portate anche Carlo e Little Bill. Cosa fatta, capo? Quando avete il furgone, tornate subito qui. Non la deluderemo, capo. Non farmi pentire di averti concesso di andare in giro con i ragazzi. Non si deve preoccupare. Lo so, se ne preoccupa Tommy, infatti. Proteggo io il suo autista, capo. Buona fortuna, allora. Sim, ma le Little Bill vi stanno aspettando in centro. Stai bene, Carlo. Sembra uno che se l'è fatta sotto. Ah, vaffanculo. È il tuo momento di gloria, eh? Finalmente sei con i ragazzi. Senti, passo più tempo io con il Don che tutti voi messi assieme. Certo. Certo, lo spette fuori finché non ha finito con le sue buttane. Se non mi volete, non vengo. Nessun problema. Il capo non lo verrà a sapere. No, se il capo ha detto che vieni, tu vieni. È solo che c'hai l'aria di uno che va a farsi una scampagnata. Non voglio che Gates pensi che siamo dei deboli. A ogni modo, perché Gates ce l'ha con Morello? La prima volta che Gates ha fermato i furgoni, Morello ha deciso unilateralmente di modificare i termini. E già che Gates ci ha rotto il naso come parte della rinegoziazione. Se Morello viene a sapere che siamo coinvolti, è la volta buona che glielo stacca. E questo dobbiamo fingere di rapenarlo. Così tornerà dal suo paparino raccontando la storia a staffa lacrima di come è stato derubato e minacciato con le pistole. Convincerà il vecchio che Morello non sa proteggere la merce. E a quel punto ci servirà il nuovo compratore. La tua guida è un buono genita, eh, Tommy? Che stavo dicendo? Eh, eh, già. E questo dobbiamo fingere di rapenarlo. Così tornerà dal suo paparino raccontando la storia a staffa lacrima di come è stato derubato e minacciato con le pistole. Convincerà il vecchio che Morello non sa proteggere la merce. E a quel punto ci servirà il nuovo compratore e suggerirà un tipo affidabile chiamato Salieri. Questo piano è una stronzata, Tom. Pauli me l'ha raccontato ieri e in qualche modo sembra già peggiorato. Ascolta, quando farai un lavoro vero per il capo invece di scarrozzarlo in giro? Allora, solo allora puoi dire la tua. Fino a quel momento, vedi di tenere chiusa quella cazzo di fogno. Va bene, come vuoi. Puoi non venire a piangere da me quando Morello ti becca. Stai insinuando! Che cazzo stai insinuando! Ragazzi, fatela finita! Cristo! Ci lavoro spesso qui. Il parcheggiatore si accontenta di poco. Non venciare a nessuno finché qui ci sono io. Ok, ci siamo. Gates sta aspettando all'ultimo piano. Tutto tranquillo per ora. Solo chi lavora ha la macchina. Dalle 9 alle 5 questo posto è deserto. Beh, noi abbiamo un lavoro, ma siamo qui. Quell'accio tipo di lavoro. C'è qualcos'altro che dobbiamo sapere su Gates, Poli? È solo che c'è il naso rotto. E la casse è piena di roba buona. L'ideale per noi. L'ideale per noi. Perché ce l'ha giù? Poli! È un piacere vederti. Sì, anche per me, Gates. Beh. Spero sappiate riconoscere il buon whisky. Beh, non sono esattamente un aspetto. Tommy! Sì. È buono. Il primo pagamento. Se il don è soddisfatto, finanzierà altri carichi. I quantitativi aumenteranno costantemente. E noi saremo ricchi, ragazzi. Beh, è sempre un piacere fare affari con persone rispettabili come Don Salieri. Quindi, porggigli i miei rispetti. Ma certo. Ora dobbiamo solo chiudere quest'affare. Cristo polino! No, no! Tranquilli! Che c'è? Ve l'ho detto che all'apparenza doveva sembrare una rapina, no? Quando avrò finito in questa città mi toccherà rifarmi il naso. Eh, puoi stare tranquillo. Con tutti i soldi che ti farai potrai comprartene uno nuovo. Che c'è? Attenzione! Eita, porca pazzana! Eita, porca pazzana! Ehi! Da questa parte! Come minchia sono venuti a saverlo! Perché non stai mai zitto? Gates è stato colpito. Non è grave. Prendete gli alcolici e filate. Ci pensano i miei ragazzi. Andate, toglietemi di mezzo tutti quelli che incontrate più avanti. Io resto con il piccoletto. Carlo, sali sul taxi. Non ci servi da morto. Tommy, cerca gli altri. Non è ancora finita. Forza, ti do una mano! Ehi! Andate, guarda! E' partito! E' partito! Da qualche parte ci deve essere una valvola da aprire! Come ci andiamo dalla giapatti? Ti darò una bella lezione! E' partito! Link! E' stato in tezzo! Mi sento ancora le fiamme sulla faccia! Che sesso santo? Andate vicini e non fermatevi! Proteggete l'alcool! Io resto dietro di voi e ce ne vedete altri sparate! sapevo che non era finito la 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sembra una Calibre .08, opera di quelle di Morello. Sì, li abbiamo sistemati. E il 18 da Piantaghi? L'hanno colpito alla spalla, ma è un tipo tosto. Lui e i suoi sono andati via appena abbiamo steso i sicari di Morello. La moschetta della Gates al padre è un altro motivo per far fuori Morello da un business. Sentiamo se questo sciacqua modella è valso il disturbo. Ottimo. Mi occuperò dei dettagli col padre di Gates. Con questa delizia del Kentucky torneremo sulla cresta dell'onda. Bel lavoro, ragazzo. Sono fiero di te. Sono fiero di tutti voi. Alla salute! Salute!